Allora, vi avevo lasciato con questa slide la volta scorsa assolutamente nessuna intenzione sessista, ma cercando pratica l'approccio, queste sono le immagini che vengono fuori con Google, a volte uno scopre cose con Google Images e si scoprono un sacco di interessanti connessioni. Allora, noi siamo o comunque saremo degli ingegneri, il che fa di noi persone pratiche, non abbiamo nessuna intenzione di andare a spezzare il capello in quattro, quello che ci serve è capire, comunque essere in grado di distinguere delle grosse classi, delle macro classi di algoritmi in modo da sapere se in alcune circostanze e con alcuni tipi di problemi ha senso pensare di usare un certo algoritmo. Allora, se noi sappiamo quello che ci serve della teoria della complessità è semplicemente poter dire che un certo algoritmo per risolvere un certo problema non è possibile, non ci riuscirò mai, perché quell'algoritmo lì intrinsecamente per come è fatto cresce e ha bisogno di una tale quantità di calcolo e di risorse e di tempo che, viste le dimensioni del mio problema, è inutile provarci. Non importa niente, e abbiamo visto perché, non importa niente se io compro una macchina il doppio più veloce, non importa niente se assumo quattro programmatori geniali che mi scrivono il programma in un modo bellissimo, ma per come è fatto l'algoritmo e per come cresce il tempo in base alla complessità del problema, comunque io avrò la soluzione fra 50 anni, 100 anni, 200 anni, tipicamente troppo. Talvolta è facile scrivere algoritmi che impiegherebbero per risolvere un problema più del tempo stimato che resta all'universo di vivere. Quindi i numeri diventano veramente molto molto grandi. E le macroclassi in cui noi abbiamo intenzione di, in qualche modo, di dividere gli algoritmi sono fondamentalmente costanti, in realtà non è segnato, ma costanti è il tempo migliore, logaritmico, lineare, log linear, quindi n log n, quadratico, cubico e esponenziale. Ci rendiamo subito conto che per come crescono, logaritmico siamo molto contenti, lineare si può fare, n log n il più delle volte è ancora accettabile, quadratico ancora, esponenziale, sicuramente quello da evitare è algoritmi che hanno una complessità esponenziale. Se io posso risolvere il mio problema con un algoritmo esponenziale, devo trovare un altro modo, tipicamente. Perché funziona con 10 elementi, funziona quando faccio le prove, ma quando affronto il mio problema, quando mi chiedo qual è il modo migliore per mandare i miei 200 furgoncini in giro per l'Italia a portare le cose che io voglio distribuire, e uso un algoritmo esponenziale, faccio prima portare le cose a piedi. E questa tabella dà una rapida carrellata di quanto crescono i tempi. Se io sto usando un algoritmo esponenziale e il mio problema ha 10 alla terza elementi, vedete che il numero di secondi che mi servono non c'è neanche un nome. Se fossero 10 alla 2 potrei dire che sono 10 alla 17 anni, ma se no sono 10 alla 301. Non abbiamo un numero, non abbiamo un nome per esprimere una grandezza di tempo così grande. E vi rendete conto che in pochissimo tempo, basta che il problema cresca molto poco, se la mia classe di complessità è alta, io arrivo a dei tempi che non sono praticamente utilizzabili. Domanda, per vedere se fino a qui mi avete seguito. Immaginate che voi chiedete al vostro programmatore che avete assunto di produrvi due algoritmi diversi per risolvere un problema. E lui vi dice, ho trovato due algoritmi, uno si chiama fu e l'altro si chiama bar. L'algoritmo fu ha una complessità quadratica, l'algoritmo bar ha una complessità 2 alla n. Ho fatto delle prove. Quando ci sono 100 elementi, fu risolve il problema in 10 secondi e bar in 4. Quando ci sono 1000 elementi, fu ce ne mette 12 e bar 4,5. È possibile? Assolutamente sì. È possibile ed è possibile per diverse ragioni. È possibile perché la complessità è una complessità sintotica ed è una complessità nel caso peggiore. Se io devo ordinare un vettore, me lo immagino ordinato in senso opposto, ad esempio. E quindi il fatto che arrivi qualcuno e vi dica, ho fatto una prova, non vuol dire nulla. È come uno che dice, ho provato a giocare alla roulette russa e non mi sono sparato. Vabbè, fortunato, ma non è una buona ragione per fare nessun altro tipo di affermazione sulla roulette russa. Prima cosa. Seconda cosa, gli algoritmi, l'analisi di complessità è un'analisi che guarda il comportamento quando i numeri e le dimensioni del problema crescono. È un'analisi asintotica. Quindi mille, cento, mille elementi potrebbero essere ancora pochi, potrebbero essere piccoli. Quindi, se io so le dimensioni del mio problema, non c'è nessuna ragione di usare l'analisi di complessità. Se io so le dimensioni del mio problema, uso un cronometro o un qualche altro meccanismo. Però non ho nessun bisogno dell'analisi di complessità. L'analisi di complessità mi serve quando potenzialmente il numero dei dati di ingresso può essere tanto grande e io voglio sapere in che modo le performance peggiorano all'aumentare dei dati. Ma non ho chiaro quanto aumenteranno. Non lo so. Se io so che devo ordinare cento elementi in un vettore, esistono probabilmente milioni di algoritmi particolarmente efficienti per cento elementi. Quindi, le prove che uno può fare sono utili come tutte le prove pratiche, però ricordatevi che quando parliamo di complessità parliamo di un comportamento asintotico nel caso peggiore. Quindi le prove hanno valore, sono importanti, ma non sono risolutive. Comunque stiamo parlando di argomenti simili, ma non stiamo dicendo le stesse cose quando io faccio le prove. Il modo per calcolare la complessità di un algoritmo, semplicemente guardandolo, è molto semplice. Ci sono cinque semplici regole che ci permettono, a occhio, di capire quanto è complesso un algoritmo. La prima cosa è che un singolo statement, una singola istruzione, ha un tempo costante. Quindi diciamo che quando io devo fare una singola cosa, quello lo posso considerare? Un tempo costante. Non me ne importa niente della differenza di tempo fra statement. Assolutamente, le posso tralasciare completamente. Quando ho un condizionale, scelgo sempre il caso peggiore. Mi chiedo sempre cosa succede nel caso peggiore. Dove il caso peggiore per me è quello che mi porta a fare più calcoli, chiaramente. E quando io ho una sequenza di passi, la complessità è il più grande. Quindi, o grande di n più o grande di n non è 2 o grande di n, perché le costanti non ci importano. O grande di n più o grande di n è o grande di n. O grande di n più o grande di n quadro è o grande di n quadro. In questo caso qui vedete n cubo più n quadro è n cubo. Quindi, tralascio tutti i termini più bassi. Ripeto, perché siamo dei praticoni. Quello che ci interessa è avere un'idea molto qualitativa di quali algoritmi noi possiamo usare. E la regola fondamentale è per cercare la regola del prodotto. E quando io riesco a capire che un certo ciclo viene ripetuto un certo numero di volte, allora io devo in qualche modo moltiplicare le complessità all'interno. Facciamo un esempio che è la cosa più semplice. Questo che complessità avrà? Vado avanti da solo. Ok, allora questo ha complessità o grande di 1, perché posso considerarlo uno statement e è un'operazione singola. A questo punto, questo io lo ripeto u volte. E quindi il tutto avrà una complessità che dipende dal numero di u, che tendenzialmente ha, sui dati, n volte. E quindi ha una u, è la variabile che uso per il ciclo. E quindi avrà un numero di una complessità che è o grande di n. Questo fa sì che tutto quel gruppetto lì avrà complessità di n per 1, e quindi o grande di n. Quel gruppetto lì ha complessità o grande di n. A questo punto io ripeto n volte un blocco che ha complessità o grande di n. Quindi alla fine il mio algoritmo avrà complessità o grande di n quadro. Regola pratica. Quando dovete capire la complessità di qualcosa, guardate se ci sono cicli. Se ci sono cicli e questi cicli dipendono dalla complessità, dalla dimensione del problema, usate quelli per calcolare la complessità. Se pensate all'algoritmo di ordinamento, al bubble sort, io ho un ciclo lungo tutto il vettore, che dipende dalla lunghezza del vettore, e nel caso peggiore lo devo ripetere n volte, dove è n volte la lunghezza del vettore. Quindi la complessità è n per n. Dentro il ciclo cosa faccio? Un confronto e uno scambio. Complessità del confronto, complessità dello scambio, per me è sempre grande di 1. Il tempo che ci metto a fare un confronto e a fare uno scambio non mi importa. È il numero di confronti, il numero di scambi. E quanto questo numero dipende dal numero di ingressi. Vabbè, qui possiamo fare le cose un po' più carine. Però vedete che il doppio ciclo, alla fine, in qualche modo, anche se il ciclo interno può essere più corto, alla fine la complessità è sempre o grande di n quadro. Se li mettiamo di seguito, due blocchi di seguito, la complessità è la complessità del maggiore. Perché non sto parlando di tempo, ripeto. Sto cercando di esprimere in un modo leggermente più formale come cresce, quanto cresce. Condizioni? Beh, quando ho due condizioni scelgo il caso peggiore. Quindi la parte interna che complessità avrà? Quale sarà la complessità di questo frammento di codice? n quadro. Esattamente. Perché io ripeto, n volte un blocco che, se mi va bene, ha tempo costante. Se mi va male, è n. Quindi la complessità è n per n, n quadro. Quindi, guardate, cercate di capire quali sono i blocchi più pesanti. Non perdete tempo a fare una un'analisi linea per linea del codice che non ha nessuna importanza a questo livello qui. Cercate di riconoscere dei blocchetti che conoscete. Cercate di capire se questi blocchetti vengono ripetuti e cercate di tenere soltanto il dominante per ogni blocchetto. Quello con l'esponente più alto, quello con la complessità più grande. Non è l'esponente, in alcuni casi può essere non un esponente. Comunque tenete soltanto il blocco che cresce più rapidamente. Ripeto, parlare di velocità e di complessità, i due fattori sono chiaramente legati. Perché, non mi ricordo la slide che c'è dopo, chiaramente quando io parlo di complessità cerco di capire come il tempo di esecuzione del mio algoritmo aumenta al variare dei dati di ingresso. Però, non sto parlando di tempi assoluti. Molto spesso capita che algoritmi che hanno una complessità maggiore siano di fatto più veloci quando i dati di ingresso sono pochi. Se voi pensate al disegno di una parabola e di una retta, c'è un lungo pezzo in cui la parabola sta sotto la retta. Quindi, se effettivamente la legge del tempo segue esattamente una parabola, beh, una parabola per un certo tempo è comunque più veloce di una retta. Ci mette meno tempo di una retta. La retta è più lenta. Poi, quando il numero di ingressi, quando il numero degli input, quando le dimensioni del problema crescono a quel punto lì, certo, la retta è sotto ed è quello che mi interessa. Ma con pochi dati la parabola è sotto la retta. Non solo. L'analisi asintotica non tiene in alcun modo conto di quello che sono i tempi di inizializzazione. Magari io posso avere un algoritmo molto bello che ha una complessità molto bassa, però prima di partire devo azzerare n.000 vettori, devo preparare, allocare memoria, devo fare tutta un'altra serie di operazioni. E quello è un tempo che mi porta via. Allora, è vero che sul lungo mi conviene, però sul corto no. Infatti esistono degli algoritmi molto molto ben fatti che, ad esempio, si mettono a spezzare il problema in sottoproblemi man mano sempre più piccoli e quando i sottoproblemi diventano sufficientemente piccoli, a quel punto li affrontano non usando l'algoritmo bello con una complessità bassa, ma usando un algoritmo veloce con una complessità alta. Perché se io so quanti elementi ho, l'analisi di complessità non mi serve. Quindi, la complessità e il tempo effettivamente utilizzato sono due cose profondamente diverse. Quando io mi chiedo della complessità, mi chiedo quanto è usabile il mio algoritmo in effetti. Quando parlo del tempo, no, sto facendo una domanda diversa. Poi, altro elemento che va sicuramente considerato quando voi dovrete decidere quale algoritmi e quali metodologie fare implementare o implementare voi. Allora, sicuramente tutto il discorso l'abbiamo fatto parlando del tempo di esecuzione. Ma esattamente lo stesso può essere fatto parlando della memoria. Io posso avere un algoritmo che è estremamente efficiente ma richiede una quantità di memoria che cresce esponenzialmente con le dimensioni del problema. E allora non lo posso usare perché ovviamente non riesco a procurarmi una macchina che abbia abbastanza RAM. Oppure spazio su disco, dati. Allora, tutti questi fattori vanno considerati. Esattamente lo stesso tipo di analisi può essere fatta usando ad esempio la memoria necessaria invece del tempo. valgono tutti i discorsi che abbiamo fatto con tutte le osservazioni le analisi asintotiche eccetera eccetera e in alcuni casi è un fattore significativo quindi dovete pensare a effettivamente quanto spazio serve al vostro algoritmo per poter funzionare. Altra cosa che avevo già accennato ieri fermiamoci vale sempre la pena di fermarsi e pensare se ci dobbiamo occupare o se ci stiamo occupando del caso migliore caso medio o caso peggiore. In alcuni casi caso caso in alcuni in alcuni tipi di applicazioni quello il fattore discriminante è il caso peggiore dove c'è un serio pericolo nelle applicazioni critiche sicuramente dove qualcuno può essere messo in pericolo in pericolo di vita o può succedere qualcosa di molto brutto sicuramente il caso peggiore è significativo nella maggioranza delle applicazioni pratiche quello che realmente ci interessa è il caso medio. Allora esistono degli algoritmi che come analisi di complessità hanno delle performance tutto sommato abbastanza bruttine ma che miracolosamente perché quello che l'ha scritto è stato illuminato quella mattina nessuno è riuscito a capire perché ma nel caso medio funzionano allora quelli lì ha senso usarli perché la maggior parte delle volte mi va bene e la volta che non mi va bene pazienza sono in grado di sopportare andare a chiedersi cosa succede nel caso migliore è solitamente inutile perché quante volte io devo ordinare un vettore questo è già ordinato non è una cosa che vale la pena assolutamente il pensare al caso peggiore caso medio e caso migliore sicuramente è interessante quando noi invece di fare un'analisi asintotica un'analisi analitica del nostro algoritmo decidiamo di cercare di capire qualcosa di come funziona l'algoritmo mettendo dentro il provando mettendoci dei dati allora in quel caso lì probabilmente vale la pena di fare delle considerazioni su quello che è l'input del nostro algoritmo se pensate a quello che abbiamo visto ieri quando io cercavo di prendere i tempi nel togliere un elemento usando vari tipi di liste di java non toglievo il primo non toglievo l'ultimo ma toglievo quello in mezzo e questo tutto sommato non è completamente onesto perché probabilmente togliere l'ultimo e togliere il primo ci sono delle ottimizzazioni togliere quello in mezzo è quello che maggiormente obbliga effettivamente l'algoritmo a portare su tutti i vari elementi uno dall'altro e quindi è quello che ha le performance peggiori quindi se dovete cercare di capire la complessità facendo degli esperimenti vale la pena di fermarsi a pensare a che cosa far simulare negli esperimenti allora vediamo le classi di complessità che servono a noi mi ci metto in mezzo volentieri anch'io allora prima classe o grande di uno costante wow quello che realmente mi rende felice l'algoritmo non ha bisogno di sapere nulla dell'input lo ignora completamente talvolta non lo legge nemmeno quello è la classe di complessità che tutti noi preferiamo logaritmica logaritmica io riesco in qualche modo a frazionare il problema in ogni in ogni iterazione ad esempio io ho tante tante persone voglio vedere fra queste persone qual è il il campione stanno facendo un gioco oppure che non so qual è la persona più alta che cosa che sistema ah no questo che è lineare vabbè ci sono tutta una serie di problemi in cui io riesco a spezzare il problema in una serie in un modo particolarmente intelligente per cui mi porta ad avere un tempo logaritmico lineare vabbè semplicemente quando io nel mio algoritmo ho un ciclo lungo tutti gli elementi la complessità è lineare cercare un elemento in una lista cercare un elemento in una lista è un tipico esempio di algoritmo lineare cercare una parola su un vocabolario è un algoritmo lineare? era una domanda forse dovevo come in italiano si finisce col tonno cercare una parola su un vocabolario è un algoritmo lineare? allora la vostra collega dice se usiamo l'indice no il che certo si può fare con un algoritmo lineare io apro il vocabolario inizio lentamente a leggere tutte le parole e prima o poi arrivo alla parola che mi serve solitamente il vocabolario non ha un indice ma io so che le parole sono ordinate in ordine alfabetico allora quello che posso fare è aprire il vocabolario con una buona approssimazione più o meno dove mi aspetto di trovare la parola quello che faccio io non so se poi lo fate anche voi e poi vedo se mi sono sbagliato vado un po' più su un po' più giù e a quel punto quando ho due estremi da lì in avanti vado a prendere il punto in mezzo all'estremo per cui se io so che Abaco è troppo avanti e Acab è troppo in basso aprirò una pagina in mezzo e vado a vedere se la parola che cerco sta di qua o di là fin quando a un certo punto non trovo la parola giusta allora questo è un caso di ricerca dicotomica io taglio a metà lo spazio di ricerca e ogni volta mi muovo in una delle due metà questo è un caso di ricerca logaritmica che può essere ottimizzata appunto non aprendo il dizionario esattamente a metà se io cerco Zuzurro e lo apro esattamente a metà sono un fesso però comunque funziona anche se lo apro esattamente a metà perché poi di metà in metà lentamente mi sposterò verso la z e la trovo quindi a parte alcune ottimizzazioni iniziali che posso fare il tipo di ricerca è un tipo di ricerca dicotomica e l'algoritmo è una complessità logaritmica se il dizionario non fosse ordinato l'unica cosa che potrei fare è scorrerlo tutto e in quel caso la ricerca sarebbe lineare era una battuta di BC il cavernicolo fa vedere la sua nuova invenzione il dizionario al collega che dice sì carino però dovresti metterlo in ordine alfabetico n log n allora n log n abbiamo una serie di algoritmi che si basano sul principio di gli americani dicono divide and conquer in realtà l'autore della frase è Cesare che diceva divide e timpera e l'idea è quella di prendere il problema dividerlo in un blocco e affrontare il singolo blocco separatamente Cesare aveva il problema di ammazzare i galli noi abbiamo delle cose meno cruente però alcuni algoritmi che si basano su questo paradigma alla fine hanno una complessità abbastanza bassa n log n n quadratica quando ho un doppio ciclo se io ho un doppio ciclo e gli indici in qualche modo considerano n dove n è il numero di elementi la complessità è quadratica cubica esponenziale se io devo generare tutti i sottoinsiemi di una certa del mio ingresso la complessità alla fine è esponenziale e i problemi esponenziali sono veramente tantissimi e sono quelli che di fatto non sono gestibili nei casi reali per cui quando uno ha un problema ha un algoritmo esponenziale per cercare di risolverlo l'unica cosa sensata da fare è rinunciare al trovare la soluzione ottima e provare con qualche si chiamano euristiche con qualche sistema più o meno approssimato che produce una soluzione accettabile non sarà quella ottima però ho una soluzione la soluzione ottima non ce l'ho perché ci metterei troppo ancora peggio sono i problemi fattoriali che hanno bisogno di generare tutte le possibili permutazioni di un certo insieme di elementi allora se io mi trovo un problema di questo tipo cambio algoritmo e rinuncio a risolvere allora vabbè in realtà ce lo siamo già detti ricerca lineare è o grande di n ricerca dicotomica dizionario è n log n vediamo adesso torniamo alle collection cercate di dirmi cerchiamo di vedere mettiamo delle complessità qui delle classi di complessità invece di mettere quello sluggish fast medium yeah eccetera cerchiamo di mettere qualcosa di leggerissimamente più quantitativo allora aggiungere un elemento nell'array e nella linked list era verde se ve lo ricordo che complessità avrà o grande di uno è un'operazione costante in realtà aggiungere un elemento non mi cambia nulla sapere quanti elementi ci sono già rimuovere un elemento beh abbiamo visto che il problema era che rimuovere un elemento in realtà richiedeva prima del rimuoverlo il cercarlo quindi prima lo cerco e poi effettivamente lo tolgo allora nel caso dell'array list cercare un elemento quant'è? ma conosco l'ordine ma gli elementi non sono ordinati conosco l'ordine il vostro collega ha detto conosco l'ordine in realtà c'è un ordine ma l'ordine non dipende dalle chiavi l'ordine dipende dall'ordine in cui li ho messi e io non sto cercando qualcosa riferito all'ordine in cui li ho messi ma sto cercando qualcosa riferito alla chiave quindi io posso mettere abaco zuzzurro mamma in questo ordine qui e il terzo è mamma però se cerco mamma l'unico modo che ho è scorrerli tutti quindi sia nell'array list sia soprattutto nella linked list per cercare un elemento l'operazione è o grande di n e per rimuoverlo nella array list è di nuovo o grande di n perché devo spostare tutti gli elementi indietro e nella linked list è o grande di 1 o grande di n più o grande di n quanto fa? o grande di n più o grande di n fa o grande di n perché quando io sommo devo fare due operazioni in realtà la complessità prendo la maggiore quindi la complessità è la stessa e quindi io o grande di n e la linked list anche o grande di n più o grande di 1 è sempre o grande di n trovare un in un a questo punto mettiamoli dai trovare un un elemento a partire dall'indice è o grande di 1 perché io ho l'indice e vado direttamente su quello mentre nel caso della linked list è o grande di n perché abbiamo visto che è una catena di elementi sparsi nella memoria e quindi l'unico modo per arrivare all'elemento 1000 è andare dall'1 al 2 dal 2 al 3 dal 3 al 4 eccetera eccetera set ha lo stesso problema ha la stessa la stessa complessità del get fondamentalmente soltanto che dopo esserci arrivato devo anche scriverci quindi nel caso della linked list sarà o grande di n più o grande di 1 add beh aggiungi un elemento se il mio vettore è rappresentato come un vettore se la mia lista è rappresentata in un vettore beh per arrivare nel punto giusto ci metterò o grande di 1 perché è diretto però poi devo spingere giù tutti gli altri elementi mentre nel caso della linked list arrivare all'elemento mi costa tempo e poi però lo posso inserire perché è una catena perché è una catena sciolgo i nodi e lo annodo e annodo il nuovo elemento rimuovere o grande di n perché devo tirare indietro tutti gli elementi mentre è o grande di n per cercarlo e poi o grande di 1 molto veloce nella linked list chiedermi se contiene un certo oggetto e o grande di n in tutti i casi chiedermi qual è l'indice di un certo oggetto e o grande di n in tutti e due i casi allora se non sbaglio nella prossima slide ci mangiare no o grande di n più o grande di 1 vuol dire o grande di n quindi tenete sempre il termine maggiormente importante e vi rendete conto di allora numero 1 di quanto questa sia una conoscenza veramente grezza diciamo e numero 2 come è data per scontata perché vi avevo fatto vedere ieri che ad esempio le documentazioni sulle linked list del che dà il nostro la java collection framework ci dice che le liste si comportano come complessità come uno si potrebbe aspettare che si comportino le liste perché questi dettagli qui sono diciamo l'abc di chi vuole usare o di chi vuole costruire il proprio programma in modo leggermente più serio ma ripeto non sono cose da memorizzare perché quando uno capisce come funziona non deve implementarlo però capisce qual è lo schema con cui funzionano le cose la complessità non può che essere quella perché i dettagli non mi importano però io tutti gli elementi devo visitarli e se li devo visitare tutti ho grande di n fine questo non è del dottor house in realtà è di Einstein questa frase però ok è di Grazie.